Come annunciato in apertura nel nostro programma, questa mattina vogliamo concentrarci su un argomento di strettissima attualità, un argomento che è presente ma nel tempo stesso è già passato e già futuro, perché il tema dell'intelligenza artificiale corre, corre tantissimo e in qualche maniera coinvolge tutti quanti noi gli ambiti delle nostre vite. E io sono davvero contento questa mattina di ospitare, anche se purtroppo solo virtualmente, Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che in Giappone pochi giorni fa ha parlato dell'intelligenza artificiale nell'ambito del tema dell'etica e della pace. Buongiorno Eccellenza, ben trovato, grazie per essere con noi. Grazie, un saluto a lei e a tutti coloro che ci vedono e ci ascoltano. Buona giornata a tutti comunque. Buona giornata anche a lei, eccellenza. Allora, parliamo di questa tematica così bella, così affascinante, inutile girarci intorno perché davvero l'intelligenza artificiale suscita queste emozioni, soprattutto anche per ciò che magari succederà nel nostro futuro, ma anche per quello che sta succedendo nel nostro presente. Con lei io vorrei parlare di questa ambizione, chiamiamola così, di favorire la pace attraverso uno strumento digitale, attraverso dei semplici byte 0-1 che in qualche maniera sconvolgono e stanno sconvolgendo la nostra vita. Lasciale la parola. Sì, la prima cosa che vorrei dire è questa, che il nome non è corretto, perché quando parliamo di intelligenza, parliamo del nostro cervello, del nostro corpo, delle emozioni, delle passioni, delle relazioni, e tutto questo ha poco a che fare con il termine intelligenza artificiale. In ogni caso è un nome che c'è e lo accogliamo conoscendone i limiti. In ogni caso c'è da dire una cosa, che tutto il tema degli algoritmi e della tecnica è il frutto di una intelligenza dell'impegno dell'uomo, quindi è positivo. Quando il Signore Dio mise Adam ed Eva nel giardino, disse loro che avrebbero dovuto curarlo, svilupparlo. Ed ecco, allora, il primo sguardo verso queste nuove tecnologie deve essere uno sguardo positivo. Qual è il punto? È che se noi lasciamo alla tecnica il potere di agire senza una corrispettiva dimensione etica, il problema diventa serio. Ma questo è serio sempre, anche con il coltello. Il coltello possiamo usare per tagliare la carne e la verdura, ma anche per uccidere. Qual è il punto? È il coltello il problema o è l'uomo? Evidentemente il problema è l'uomo e la donna che lo usano. Ecco perché allora la Chiesa, in questo caso, e dobbiamo dire con un piccolo orgoglio, questa volta la Chiesa è arrivata prima. Nel 2020, con la Pontificia Accadema per la Vita, abbiamo accolto la richiesta del presidente di Microsoft di essere accompagnato per favorire l'attenzione etica a queste nuove tecnologie. Lui era ben consapevole che queste nuove tecnologie possono creare delle cose splendide, ma anche terribili. Dipende dall'etica, dal comportamento, dipende dalla coscienza di noi umani. Ecco perché è nata nel 2020, il 28 febbraio, quella che viene chiamata, lo dico in inglese perché ormai è la lingua più comune, Rome Call for AI Ethics, cioè l'etica nell'intelligenza artificiale. Questo manifesto Papa Francesco lo ha presentato anche al G9 quando proprio in Puglia è venuto per parlare ai grandi del mondo. È stato un gesto molto importante, proprio perché mostra un'attenzione agli sviluppi della tecnica, ma con grande sensibilità per uno sviluppo umanistico. La tecnica deve servire all'umano e non viceversa l'umano schiavo della tecnica. Io sono contento di poter fare questa brevissima chiacchierata anche con la vostra splendida rete televisiva, dico splendida, frutto anche della tecnica. Ecco, ma voi questo strumento lo usate in maniera fantastica, bellissima. Ecco, io direi perché non trasformiamo anche Tele Padre Pio in un telealgoritmo? Mi perdoni la battuta, ma è un senso importante. Credo che arriveremo anche a questo, eccellenza, perché ormai i progressi sono talmente veloci che probabilmente ci spuggono anche di mano. Io però vorrei ritornare, lei ha detto, noi la Chiesa già nel 2020 in qualche maniera è stata profeta da questo punto di vista. Io azzarderei, senza voler fare l'ermeneuta di Papa Francesco, già nella Laudatosi, quando parlava di ecologia integrale, uno sbuffo, potremmo dire così, di, come dire, di, in tal senso già c'era e ora potremmo dire che il ragionamento comincia a prendere, come dire, il cerchio comincia a quadrare. Sì, vorrei dire, guardi, lei ha toccato un punto molto importante, perché il modo corretto di affrontare le nuove tecnologie è esattamente quello che Papa Francesco suggerisce con la Laudatosi e io non dimenticherei anche l'altra, fratelli tutti, perché con queste due encicliche il Papa ci ha offerto la visione all'interno della quale si devono sviluppare sia le tecnologie sia le relazioni tra gli uomini. Insomma, abbiamo la casa comune di cui prenderci cura, Laudatosi, ed assieme le relazioni tra tutti i popoli, che è appunto fratelli tutti. Ecco la tecnica, l'intelligenza artificiale, deve servire per rendere pacifiche le relazioni tra noi e per rendere positivo la gestione delle cose della terra e del creato, per evitare disastri climatici o per evitare conflitti altrettanto drammatici. Ecco perché la lettura e soprattutto l'attenzione a queste due encicliche a mio avviso dovrebbe essere come noi cerchiamo di dire ai grandi player di queste nuove tecnologie, che l'ispirazione cristiana, l'ispirazione di un'antropologia, di una concezione dell'uomo come la Bibbia è la condizione perché le tecnologie sono al servizio dell'umano, evitando che siano, come dire, una nuova dittatura, perché questo è possibile. Chi ha in mano i nostri dati, le nostre notizie, ha su di noi un potere enorme. Se non c'è una regola etica, giuridico-umanistica ed educativa, come noi scriviamo in questo manifesto che abbiamo presentato e sottoscritto a Hiroshima, i rischi sono enormi, sono notevoli. Ecco perché è importante che anche strumenti come il Telepatripio si interessino di questo, perché tutte le realtà della società debbono comprendere che c'è bisogno di un'attenzione perché le nuove tecnologie siano al servizio di tutti, non solo di alcuni, non solo di chi può permetterselo, ma al servizio della giustizia e della pace per tutti, tutti i popoli. Faccio un esempio. Questa carta dell'Arron Colfore è stata siglata, firmata anche dal segretario generale della FAO. Ebbene, perché lo ha fatto? Perché con l'intelligenza artificiale è anche possibile sconfiggere la fame nel mondo, è anche possibile prevenire le grandi pandemie, le grandi deforestationie. In questo senso credo sia davvero importante essere attenti con un'attenzione morale a queste nuove tecnologie. Eccellenza, prima di lasciarla brevemente, lei ha citato Hiroshima che è la città simbolo della follia della tecnologia umana, ma anche simbolo della grandezza della pace. Ci sono questi due ossimori, potremmo dire che si condensano un po' in questa città giapponese. Che cosa è successo nei giorni scorsi? Brevemente se ci aiuta a capire. Sì, brevemente lo dico questo. Abbiamo scelto Hiroshima per far firmare a tutte le religioni del mondo questa carta etica per l'intelligenza artificiale. E nel luogo dove c'è il memoriale della bomba atomica, e cioè della distruzione dell'umanità da parte della tecnica, noi vorremmo che si rivoltasse il tutto, e cioè che la tecnica, la nuova tecnologia, servisse all'incontro e alla pace tra i popoli e non alla loro distruzione. È stato un momento commovente vedere le grandi compagnie tecnologiche assieme ai capi religiosi del mondo firmare questo documento che appunto vuole spingere anche le religioni a contribuire al dialogo e all'incontro delle nuove tecnologie per essere in pace, per essere aiutate al dialogo e all'incontro anche dalle strumentazioni delle nuove tecnologie e degli algoritmi. In questo abbiamo usato un nuovo termine, algoretica, per combattere l'algocrazia, e cioè il potere dell'etica contro il potere degli algoritmi. unicamente tecnologici. Eccellenza, io la ringrazio davvero di cuore per averci aiutato questa mattina a fare un po' il punto della situazione su questa tematica così importante. Se lei è d'accordo io continuerò a disturbarla magari nelle prossime settimane, ovviamente perché è un tema a cui davvero io sono molto molto affezionato e penso anche i nostri telespettatori impareranno a conoscerlo bene. Grazie di cuore. Grazie, un saluto a lei e a tutte le telespettatrici e telespettatori. Un augurio a tutti. Grazie, grazie di cuore. Ringraziamo Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, per averci aiutato in questa mattinata a capire quelle che sono le sfide, le ambizioni, ma anche le paure, alcune volte celate, altre volte meno, che vengono da questa grandissima opportunità che ci si sta parando dinanzi, che è appunto quella della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, ma anche tutto ciò che è legato in qualche modo al digitale. Però tra poco continueremo, adesso andiamo sì in pubblicità, e tra poco continueremo a parlare di questo argomento con il professor Giovanni Tridente. Rimanete con noi.